Vai Giacomo! Vai, spingi! Vai Giacomo, vai! Io mi conoscevo lui stavate, poi in piazza del Santagrini, si andava. Vai Giacomo! Vai! Vai Giacomo! Vai Giacomo! Grazie! 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 Ora cosa è buono, schiola aspetta, fai di buono, 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 fai di buono. Vai Margarita, vai, brava, vai, vai Margarita, vai, brava, vai, vai Margarita. Vai Cristina, vai, 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 vai Margarita. Vai Cristina, vai, 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 vai Cristina, vai Cristina. Vai Cristina, vai, vai, vai Cristina, vai Cristina, grande. Vai Cristina, grande. No are-a-ha, buono tutta la sua lampaga. Ho Vesola, le loro scantato e abomincia a pó. risasfinita.... ... Grazie. 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 Grazie a te. sinceramente vai vai grande questo è finito il primo giro brava 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 ultimo giro brava 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 Grazie a tutti. 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 Sessanta e quattro arriva, arriva, diciassette arriva, diciassette arriva, sessanta e cinquantotto c'è l'arrivo. Sì, sì, vabbè, aspetta lì.